Cacciuscia, andiamo indietro di qualche giorno, che cosa è successo e quando le è stata staccata la luce? Mercoledì, mercoledì per un errore loro, io avevo chiesto la cessazione a partire dal 4 ottobre, dopo un quarto d'ora, c'è la registrazione scritta, affardata dal 4 ottobre, dopo un quarto d'ora hanno staccato tutto. Non c'è stato modo, né col numero verde, né col distributore, né fornitore, sono venuta qui venerdì mattina, mi hanno detto di mandare una mail, nel weekend non è successo niente, sono tornata adesso, la signora dice che ha parlato con il responsabile, che a sua volta vuol chiamare il distributore, ma non risponde il distributore, hanno mandato una pecca e devo aspettare. Quattro giorni in cui io non ho potuto lavorare, lavarmi, né luce, né acqua calda, tutto quello che avevo nel frigo è andato via, lezioni online impossibile, questo è. Lei ha chiesto l'interruzione perché voleva cambiare la fornitura? No, no, io ho chiesto l'interruzione perché mi trasferirò e quindi avevo chiesto dopo, quando io sarò partita, la cessazione e loro mi hanno assicurato dopo il 4 ottobre. Hanno messo però le proprie responsabilità? Assolutamente sì, c'è tutto lo storico scritto che la mia richiesta partiva dal 4 ottobre, l'errore è loro, l'hanno ammesso, ma non lo risolvono. E ora che cosa farà? Io non mi sposto di qui finché oggi non mi riallacciano la corrente, non ho paura. C'è anche un rimpallo di responsabilità da comunque capire? Assolutamente, hanno rimpallato tra la distribuzione, la fornitura, il gestore e a me, a me non interessa, io non mi sposto di qui perché una che ha sempre pagato le bollette, anche durante la pandemia, io non lavoravo e non ho mai chiesto una dilazione di pagamento, pretendo. Se avessi avuto bambini piccoli, anziani, malati, sì che mi arrancio, ma io sono 4 giorni che non mi posso lavare con l'acqua calda. No, basta. Pensa anche di richiedere un risarcimento a questo punto? Assolutamente, ho già avvisato il mio legale che sta facendo partire una diffida immediata. Grazie. Grazie.